I confiscati servono anche a promuovere le attività sportive, come in questo caso che festeggiamo oggi, per promuovere altre finalità sociali, per recuperare dalla società civile le risorse, per poter andare incontro alle esigenze degli emarginati, dei più deboli, degli ultimi, di quelli che hanno bisogno di avere un sostegno da parte della società e da parte dei propri concittadini. Quindi i beni confiscati servono a uso sociale, nell'uso sociale entra anche questo, lo sport, la cura, la scuola, la cultura. Ecco tutto quello che serve a fare di nuovo è di una donna, un cittadino e una cittadina.